Siamo con Davide Perrucini, uno dei componenti del Comitato di Sanità Pubblica che chiede a gran voce la riapertura del pronto soccorso di Quornier. Stamattina un evento proprio di fronte all'ospedale Alto Canalesano per far smuovere il territorio in maniera che finalmente le tante domande a cui la gente sta ponendo all'ASL, alla regione, vengono finalmente risolte. Davide, il perché di questa giornata e il perché di questo Comitato? Allora, innanzitutto questa è una prima azione, una piccola azione significativa. Il Comitato nasce comunque dopo la raccolta firme di Quornier, quindi era necessario coinvolgere più persone possibile per far sì che il pronto soccorso di Quornier riaprisse. Non è mai riaperto il pronto soccorso, hanno creato un punto di primo intervento e in più ultimamente abbiamo appreso queste informazioni legate al fatto che l'ospedale potrebbe essere privatizzato. Non ci stiamo, abbiamo deciso di partire con delle azioni. Questa è la prima, la posa di uno striscione che ricorda che non si possono mettere mani non solamente sull'ospedale ma sulla vita dei canavesani. Quindi noi abbiamo deciso di partire con questa significativa, anche se piccola azione, per poi iniziare a partire anche con degli eventi più grandi che possano comunque convolgere davvero tutto il canavese. Perché ricordiamo che Quornier ha un ospedale ma il servizio è per tutti quanti i canavesani. Sono anche contento che oggi anche per me personalmente e per Quornier c'è anche una data importante perché proprio un anno fa abbiamo posto la tenda per raccogliere la firma della petizione quindi è comunque diciamo un compleanno triste perché è passato un anno e dalla regione non c'è stato comunque un segnale positivo, anzi sempre segnali sempre più negativi possibili. Quindi noi ci crediamo come speriamo comunque di portare avanti la voce di tanti cittadini canalesani e quindi vive la sanità pubblica, ricordiamo pubblica non privata. Noi siamo per la sanità pubblica quella che può permettere tutti quanti di potersi curare e non solamente qualcuno perché c'è soldi. Perché oggi i soldi forse qualcuno li ha, domani può darsi che i soldi non li ha. Quindi il problema è curarsi. Inoltre sempre come comitato vi siete presentati in diversi mercati del territorio. anche questo quanto è importante incontrare la gente e far capire non solo il messaggio che state lanciando ma quanto sia importante avere appunto un pronto soccorso su un territorio come quello dell'Alto Canavese che è anche importante e utile per le valli. Sì, i mercati sono comunque un contenitore di persone, di cittadini quindi è semplice comunque coinvolgere le persone però comunque ci vuole anche un gruppo di persone che possa comunque creare l'azione giusta. Lo dico sempre, un comitato nasce quando la politica fallisce. Ci fosse una politica che funziona, i comitati non vengono neanche costituiti. L'importanza di avere un servizio ospedaliero in questa zona è moltebice nel senso che un territorio industriale ha bisogno di servizi ospedalieri un territorio turistico ha bisogno di servizi ospedalieri tutti quanti abbiamo bisogno di servizi ospedalieri ripeto e ribadisco pubblici non privati Viva la sanità pubblica, universale!